Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipprosi, soluzione Ipprosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi parleremo di ritardo, ritardo. Che significa ritardo? Molta gente ritarda sui luoghi di lavoro, nella vita, allo studio, faccio dopo, domani, procrastina sempre, sposta in avanti la palla. Perché si fa così? Perché da qualcuno, quando si era piccolini, si è visto quell'immagine, quel gesto, quella parola, quel pettegolezzo e quindi è entrato a far parte del nostro subcosciente, del nostro pilota automatico, del nostro genio della lampada di aradino. La bella notizia è che tu con Ipprosi di CS vera e professionale puoi uscirtene completamente ed essere la persona più produttiva di questa terra, più concentrata, più focalizzata, più, 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 senza ma e senza se. Quando ero un ragazzo, chi procrastinava quasi sempre era mio padre, buttava la palla avanti, faccio dopo, faccio domani, mentre mio padre era una tipica persona che invece faceva subito la cosa e se la toglieva di mezzo. Per cui quando siamo ragazzi, soprattutto quando a tre mesi nella pancia della mamma il nostro cervello organicamente è formato come una scatola nera di un aereo inizia a registrare tutto ciò che ci gira attorno e quindi assorbe le cose positive e le cose negative. Per cui se te o uno dei tuoi cari vi trovate spesso in ritardo in ogni cosa che fate, dallo studio, al lavoro, alla vita, agli appuntamenti importanti, sappiate, sappi che non è colpa tua, è il tuo subcosciente che siccome è più forte di te, fa parte sempre della tua mente, il tuo subcosciente, l'88% è la tua mente, però non lo comandi con la volontà, hai voglia a dire voglio essere puntuale, non voglio più ritardare, voglio arrivare all'ora esatta agli appuntamenti, alla corriera, allo studio, alla scuola, al lavoro, essere, non procrastinare più, se dico di fare ciò io lo devo fare, bla bla bla, finché non convinci il pilota automatico, nulla ti è consentito, nulla, di nulla, di nulla, senza ma e senza se. Per cui esiste un grandissimo, potentissimo Audi MP3 DCS dal titolo non passato negativo che ti elimina, insieme a memoria e concentrazione, tutto ciò che ti fa spostare in avanti e non concentrarti sul momento presente, anche come appuntamento. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, fammi tutte le domande al caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia pagina, fanpage su facebook ipnosi, autipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita e seguimi anche su instagram e twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima.